E' giallo su quanto accaduto in una struttura per anziani oggetto di una ordinanza di chiusura da parte dell'amministrazione comunale di Arezzo in seguito ad un controllo da parte della Polizia Municipale. In tutto otto gli anziani presenti, quella chiesta dalla Polizia Municipale ed emessa dal Comune di Arezzo è un'ordinanza di chiusura entro 20 giorni per la struttura Armonia gestita dalla società Casa di Lucia. Nell'ordinanza si legge che tutti gli otto ospiti versano in condizioni di non autosufficienza che la struttura è aperta 24 ore su 24 con personale presumibilmente inadeguato. Ma io credo che questa cosa qui sia tutta da verificare soprattutto da un medico, non da un vigile. Nel caso di mia madre, io parlo di mia madre, mia madre secondo me è super autosufficiente perché si lava da sé, mangia da sé e se va al bagno fa tutto quello che deve fare in maniera corretta, vorrei sapere qual è il problema di questa struttura che la tengono in maniera corretta e in maniera pulitissima. Quello che ha creato maggiore sconcerto tra i parenti è che sempre, secondo quanto contenuto nell'ordinanza, siamo in presenza di una situazione di pericolo per gli ospiti della struttura in quanto priva dei necessari requisiti di assistenza socio-sanitaria. Insomma, secondo le autorità, questa è una RSA priva delle necessarie autorizzazioni. Assolutamente, io sapevo e so che è una casa famiglia perché mia madre non è da RSA quindi non avrei portato mia madre in una situazione in cui non sarebbe stata tutelata. Secondo i gestori, questa è una casa famiglia che per legge può ospitare fino a otto persone contemporaneamente a patto che non siano nelle condizioni di non autosufficienza. È questo il discrimine. Ecco perché gli stessi gestori hanno proposto al Comune una sospensiva del provvedimento in attesa di un preciso pronunciamento da parte delle autorità sanitarie sulle condizioni di ogni ospite. Noi veniamo a trovare, nostra madre sia io che mia sorella, due volte sempre a settimana, anche a sorpresa. Abbiamo sempre trovato la mamma che ha mangiato bene, che ride, che gioca, che fa addirittura ballo. Così che cosa le devo dire?